Quanti SMS avete inviato nell'ultimo periodo? Decisamente pochi, lo rivela il rapporto ASTEL sulle telecomunicazioni. Rapporto che ha decretato il sorpasso ormai dei messaggi di WhatsApp rispetto ai tradizionali SMS. Una flessione iniziata già sei anni fa, ma ha mantenutasi progressivo e costante nel tempo. Tutto questo ha portato ad un vero e proprio boom del traffico dati mobile, aumentato del 500% rispetto al 2010. Basti pensare come nel giro di un solo anno, tra il 2014 e il 2015, si è registrato un più 44%. Contemporaneamente il volume di traffico dati da rete fissa è aumentato del 27%, mentre della stessa percentuale è calato l'invio di SMS, che oggi come oggi sembrano destinati a risultare una tecnologia ormai da archiviare. Festa di compleanno quest'oggi per l'Avis Comunale di Cremona, di cui ricorrono gli 83 anni di vita. È stata infatti fondata nell'ottobre del 1933, seconda in Lombardia dopo Milano e quinta in Italia. Il programma, per ricordare degnamente questa importante ricorrenza, prevede una santa messa nella chiesa di San Bassano, poi un incontro per tutti gli iscritti alla presenza delle autorità, nonché un intervento del dottor Massimo Crotti, responsabile del servizio di immunomatologia e medicina trasfusionale, sul tema macroarea a Cremona-Mantova, considerazione e dati di attività dopo quasi due anni. Al termine consegna gli attestati di benemerenza ai donatori che hanno raggiunto le 100 e le 120 donazioni. Prevista anche la consegna ufficiale alla sede cittadina dell'Avis di un dipinto di Graziano Bertoldi, raffigurante il tema della donazione di sangue. Per ricordare il sostegno dato all'associazione dal dottor Vanni Adami, medico scomparso lo scorso gennaio. A consegnarlo saranno la moglie e la figlia. Quest'oggi alle 14.30 primo appuntamento la rassegna Cremona sotto e sopra, teatro per l'esordio e palazzo Trecchi che verrà esplorato grazie a una guida e percorso in lungo e in largo anche nei sotterranei dove si trova ancora il bunker della seconda guerra mondiale. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'organizzazione Cremona Sotterranea, rinfresco finale per i partecipanti all'iniziativa. Conoscete giovani che aiutano in casa chi si è in difficoltà, loro coetanei oppure prestino servizio in strutture di assistenza e accoglienza? Allora questa notizia fa per voi. Scade infatti alle ore 12 dal 31 ottobre il termine per inviare segnalazioni scritte circa i premio annuali di bontali di abitanti all'ufficio di gabinetto dell'ente locale in piazza del comune 8 a Cremona. A beneficiarne saranno giovani sino ai 21 anni residenti in territorio provinciale e distinti e superati di bontà verso familiari o conoscenti. Le segnalazioni devono essere documentate ai completi recapiti della persona indicata. Non sono consentite autosegnalazioni. Il premio verrà assegnato ad un'apposita commissione e quest'anno consiste in due riconoscimenti da 1000 euro l'uno. La cerimonia di assegnazione del premio avrà luogo il prossimo 18 novembre.